Maurizio Cecconi, cosa vedi nelle opere di Tiffany? È evidente che lei sa perfettamente che cosa sta facendo e quindi è un atteggiamento tra lo giocoso e il convinto che sia una cosa assai divertente. E perché? Beh, probabilmente perché le piace. Io penso che sia molto semplice, le piace ed è curioso. Ma nelle immagini di Tiffany tu che vedi che sei un grande organizzatore di mostre? Qualcuno che è assai più su agio di quanto molti che vengono a vedere le mostre. Grazie.